Ciao autore, eccoci qui, perché in realtà l'avevamo già registrata questa prima parte ma abbiamo dovuto rifarla perché non funziona mai un cazzo qua tra l'altro ribadisco quello che ho detto prima, cioè che oltre a non funzionare un cacchio dal punto di vista tecnico oggi c'ho anche la media col mal di pancia, la piccola con le scariche, quindi vabbè dai, cioè 2022 in cascina, 2023 è iniziato esattamente come era finito l'anno precedente ovvero nella merda, proprio nel vero senso della parola, anche perché oggi ne ho pestata una bella, sai, di quelle proprio belle, fumanti, in mezzo all'erba alta e niente, insomma, così. Tu invece? Io sul fatto che fosse un anno di merda parimenti al precedente non avevo dubbi, nel senso comunque è sempre così, è una ruota che gira e io tutto a posto ragazzi, mi fa un po' freddo però sto passando la mia domenica pomeriggio in compagnia di una splendida vergine che è la vergine dei Chianti Brewfighters, che se volete acquistare esiste un codice sconto, 3&drink sul sito chiantibrewfighters.it lo sponsor tecnico, se volete anche voi passare la domenica pomeriggio o il lunedì mattina in compagnia di una fantastica vergine oltre che delle bestemmie e delle altre birre, dei nostri amici sapete come fare, per il resto ci siamo noi e vi raccontiamo quello che ci viene in mente della settimana NBA trascorsa e dandovi le nostre prediction per quel che succederà perché qui le azzecchiamo tutte uff, madonna, madonna, madonna vabbè dai, detto questo, direi di far partire la solita sigla 3&drink il podcast con la mia redetta in mano 3&drink hola, rieccoci qua dopo la sigla sempre splendida di Riccardo Marchi, il grande maestro noi siamo qui domenica 22 gennaio alle 14.50 a registrare la puntata numero 21 del podcast siamo a metà stagione passata in realtà perché hanno giocato più di 42 partite tutte le squadre 41 in realtà, non 42, siamo a ridosso del weekend, a ridosso, mancano 2-3 settimane del weekend dell'All-Star Game manca poco la trade deadline, è il classico momento all'interno della stagione NBA in cui ci si prepara a qualche botto ci si prepara a una sosta per lo show, chiamiamolo così, del weekend delle stelle e iniziano anche i primi rumors di mercato, i primi giocatori che vengono magari messi a disposizione squadre che cercano di rinforzarsi squadre che magari hanno qualche infortunio di troppo e che devono trovare il modo di risollevarsi quindi insomma è quel punto della stagione in cui c'è un po' di calma che precede poi la tempesta che è la deadline come ogni anno partirei come primo argomento da affrontare proprio dalla kermesse dell'All-Star Game la tanto odiata e vituperata kermesse dell'All-Star Game perché insomma sono uscite le votazioni ufficiali del pubblico del pubblico e alla fine Lebron nonostante i 38 anni l'età che avanza è ancora il più votato al secondo posto Yannis che sarà il capitano dell'Est che ha superato al photo finish Kevin Durant anche perché Kevin Durant si è fatto male esatto e quindi non ha potuto mettersi in mostra in quest'ultimo periodo ma a parte che anche Yannis ha giocato quindi vediamo un po' insomma chiaro lasciano il tempo che trovano queste votazioni però si può discutere su un paio di cose secondo me all'interno dei voti che ci sono stati la prima è che Joel Embiid non partirà titolare all'All-Star Game e già questo sulla carta poi magari Kevin Durant è infortunato e Embiid parte titolare però a livello di votazioni Embiid è fuori dal quintetto base e se pensiamo a come abbia giocato negli ultimi anni Embiid cioè sempre filo MVP solo che Jokic era un piano superiore adesso è il miglior realizzatore, il miglior scorer dell'NBA e non parte titolare all'All-Star Game cioè o sta sul cazzo Embiid alla gente che ci sta, che ci sta ampiamente legittimo legittimo oppure non lo so cioè questo arriverà ad essere l'eterno secondo come Patrick Ewing l'eterno secondo Malone Stockton gli eterni secondi l'altra è la totale, come dire, il fatto che la gente ignori completamente il Sacramento Kings cioè Fox e Sabonis sono entrati nella top 10 al decimo posto entrambi tra le guardie e il frontcourt dell'Ovest semplicemente perché c'è stata una mezza rivolta popolare nelle scorse nelle scorse, come si dice, exit poll delle votazioni però fa sorridere il fatto che Kevon Lunei abbia più voti di 90 a Sabonis come Austin Reeves ne ha più di Booker e Fox insomma è circo anche questo è circo anche questo sì no, ora io ho sempre dato poco interesse cioè poco risalto diciamo alle votazioni del pubblico anche perché possono votare veramente tutti magari come si diceva anche gli anni scorsi basta un influencer coreano o comunque più generalmente una mobilitazione da un paese basta Stephen Curry che dice votate Wiggins oppure comunque basta orientare le preferenze in paesi dove di pallacanestro se ne mastica poco oppure senza mancar di rispetto non se ne capisce un cazzo e quindi poi magari viene fuori che si va a favorire il meme come fu anche ai tempi di Caruso se vi ricordate bene e tutte queste robe qui quindi nel senso per me lascia il tempo che trova certo che quando vedi che comunque nella top 10 delle guardie est c'è Derrick Rose allora veramente si tratta di votare senza coniezione perché io posso anche ammettere che uno che magari non ci capisce nulla o che va a simpatia preferisca Austin Reeves ad Aaron Fox per la ragione che dici te principalmente perché Sacramento a prescindere dalla qualità del gioco dal rendimento e dalla tenuta in questa stagione se la guardano in pochi in buona sostanza quantomeno degli osservatori generalisti chiamiamoli così o comunque come dicevano un tempo gli osservatori della domenica magari Sacktown passa un po' in secondo piano però ecco Derrick Rose sostanzialmente non vede il campo non so da quando in questa stagione probabilmente decideranno anche di cederlo in deadline perché addirittura Tibodo che è il suo padre putativo lo ritiene inutile nella rotazione dei Knicks quindi insomma questo fa un po' specie sul discorso invece del famigerato frontcourt a est cioè i quattro dei quali non si sapeva chi tenere fuori evidentemente è rimasto fuori in bid la vera domanda è capire ed è quella che si pongono in tanti ammesso che questa roba abbia un senso e capire in buona sostanza se ha ancora senso dividere in tre frontcourt e due backcourt oppure se visto che la NBA è comunque mediamente le posizioni non sono più così determinanti se si potesse votare i top 5 est e i top 5 a ovest senza necessariamente dover sottostare a ruoli che poi i ruoli non sono più perché comunque hanno tolto alla piccola alla grande centro cioè è un frontcourt e un backcourt però in buona sostanza comunque mette dei limiti limiti che come ha detto giustamente detto toglieranno la NBA dall'imbarazzo di non avere un bid in quintetto perché Durente probabilmente non giocherà e anche se fosse in forma per come la situazione sta andando a Brooklyn se può prendersi una settimana in più per recuperare secondo me se la prende volentieri alla faccia di un circo come quello dell'All-Star Game che magari non gli interessa più di tanto e come criticarlo voglio dire anche perché ha già saltato quello dell'anno scorso per lo stesso motivo esatto facendo una delle scene più belle della storia dell'All-Star Game ovvero ignorando James Harden scegliendo Rudy Gobert al draft al posto suo visto in diretta tra l'altro live perché ricordiamocelo ricordiamocelo sempre siamo sì su tutte le piattaforme podcast siamo anche fisicamente visibili sul canale YouTube e singolarmente sui canali Twitch e i France e il Torre dei Big Three ecco tra l'altro se posso permettermi sì no giustamente aver Giannis capitano piuttosto che Durant ti toglie la possibilità di vedere il draft dei capitani con un minimo di veleno perché sappiamo il serpente Durant in quanto venenoso qualcosa può sempre regalarti come lo scorso anno quando era abbrutito con Harden ha detto che un po' è un buon accione in un certo senso e quindi difficilmente anche cadrà nelle provocazioni come lo scorso anno Durant cadde in buona sostanza nelle provocazioni di Lebron perché fu tutta una marchetta per arrivare in fondo e vederlo escludere Harden all'ultimo tuffo quindi anche lì si perde un po' di appetibilità e di interesse in questa boiata la possiamo dire del roster dei capitani che è stato un tentativo di qualche anno fa dell'NBA per raggiungere un po' di attesa magari ragazzi nel fan coreano che ascolta come è che si chiama Suga 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 però resta un bel contorno nel senso siamo reduci dall'NBA a Parigi che a livello di interesse di partita anche quello è stata abbastanza sciatta nel senso la partitella due squadre poco interessanti però ecco la parte interessante che magari non è stata ben raccontata se non dai professionisti come i giornalisti di Sky che era il contorno era magari la cosa più divertente cioè mi immagino di essere al palazzo più che vedere la partita era divertente vedere Farrell Williams Magic Johnson tutto lo show intorno Wembanama Wembanama tra l'altro e anche l'All-Star Game sarà la medesima roba cioè il contorno è importante il campo è la roba così che è intangibile in fondo Sì tra l'altro altra cosa insomma che emerge secondo me ma anche abbastanza interessante dalle votazioni del pubblico è che già Morant ha preso meno voti di Wiggins ha preso meno voti di Jalen Brown di Arden cioè già Morant che era quello che io pensavo potesse esplodere a livello popolare soprattutto negli Stati Uniti in termini proprio di voti in realtà ne ha avuti molto pochi un po' perché devi scegliere comunque due guardie in realtà due backcourt e tre frontcourt probabilmente se dovessi scegliere i cinque migliori giocatori tutti i voti che sono andati ai Wiggins ai Paul George ai Draymond Green cioè ai frontcourt dell'Ovest magari sarebbero stati dirottati in qualche guardia dell'Ovest dove invece Damian Lillard ad esempio ha avuto meno voti di Westbrook però sì il numero cioè il numero così basso su Jamorant io sinceramente non me l'aspettavo perché l'anno scorso è stato di gran lunga il giocatore più seguito a livello social quest'anno è in una squadra di altissima classifica a Ovest sta giocando una grande stagione eppure snobbato alla fine dal pubblico cioè non però da chi in realtà lo guarda costantemente cioè il pubblico che è l'atleta più visto e invece ha meno voti degli altri due che comunque sono Steph che è stato anche infortunato per un bel po' e Doncic che era chiaramente da votare ecco per quello che si è visto finora però insomma questa cosa qua mi ha fatto un attimo riflettere nel senso veramente pensavo a livello popolare soprattutto a livello popolare Jamorant fosse molto più in alto invece probabilmente sta sul cazzo tanti anche in questo caso esatto no è interessante perché anche il fattore Doncic è indiscutibile la stagione di Doncic e il valore di Doncic però comunque non è il prototipo del giocatore statunitense che piace agli statunitensi perché comunque non è evidentemente statunitense invece è entrato per così dire nei cuori dei tifosi ammesso che poi valga il voto statunitense perché l'abbiamo appena detto se vota il coreano vota il cinese insomma c'è poco da fare insomma magari si basa anche su altre questioni la faccenda Morent però vale molto anche in codesta ottica con Steve perché evidentemente per quanto in tanti lo guardino sta sui coglioni più di quanto sia amato e questa è una roba che magari lo scorso anno non si riusciva a poter prevedere cioè pensavamo tutti che ci fosse il boom diciamo Morent che fosse anche un po' troppo gonfiato rispetto al punto in cui era a livello di valori non discuterlo però insomma si parlava di lui in chiave MVP chiaramente ancora siamo molto indietro a livello molto indietro insomma c'è da sviluppare e ci mancherebbe altro è comunque uno giovane secondo me pesa tanto però l'atteggiamento sia suo che dei Memphis Grizzlies in generale perché comunque non è una squadra che resta simpatica cioè i ballettini le presse di giro vanno allo Staples Center e si mettono a rizzare una mezza rissa lo stesso padre di Jamorent onnipresente è noioso tanto quanto forse anche più di quanto fu lavar bollo nel periodo totale cioè questo evidentemente a livello poi di piacere o non piacere del personaggio non fa del bene a Jamorent e i Grizzlies secondo me non so come l'avete idea però l'hanno un po' preso questo atteggiamento di voler fare gli sboroni i nemici di tutti forse cioè isolarsi isolarsi per compattarsi cioè almeno la sensazione che ho avuto anch'io è la stessa un po' come le squadre di stampo raleiano non Showtime Lakers ma quelli degli anni 90 i Knicks i Miami Heat in particolar modo che poi sono le uniche due oltre ai Lakers in realtà però è un po' tipo i bad boys moderni con la differenza che i bad boys del tempo picchiavano questi prendono per il culo perché poi la verità è quella ci hanno stata tendenza di sfotterti un bel po' d'altra parte se lo possono anche permettere perché ora prima di perdere clamorosamente contro i Lakers qualche giorno fa avevano una scia incredibile di 11 vittorie consecutive se non erro e soprattutto da quando è rientrato Jaren Jackson Junior anche difensivamente sono schizzati hanno il defensive rating numero uno nell'NBA miglior difesa e di conseguenza avevano anche un record solido tanto da dire che le perdevano raramente quindi magari lo Swog e anche questo piglio un po' a sfottere ci poteva pure stare però poi magari non ti rende in materia di simpatia voglio dire se non li tifi restano un po' sulle palle quello è sì e parlando di Lakers la terza la più votata ovest Anthony Davis di cui abbiamo una news recente che parla addirittura di un rientro la prossima settimana cioè ti rendi conto ma perché perché rientra la prossima settimana che poi si fa male di nuovo cioè ormai ecco io guardo nelle live twitch che sto facendo e tutti mi dicono oh Anthony Davis se sta per rientrare io dico non mi interessa se rientra mi interessa quanto resta perché ho la sensazione che rientri e che non duri però è anche vero cioè che già in questo podcast avevamo iniziato io in particolare a essere molto critico su Anthony Davis a inizio stagione bisogna ammettere che prima di farsi male sta vivendo un periodo oggettivamente devastante quindi non voglio far l'uccello del malagurio anzi mi auguro che Anthony Davis ritorni stia in campo e porti i Lakers ai playoff ci mancherebbe altro resto comunque molto dubbioso perché per le ovvie ragioni che sappiamo tutti perché è di cristallo e perché se non è infiduto che riusci al 100% rientra e bisogna vedere anche quanto è utile perché comunque a parte gli scherzi l'Anthony Davis ad inizio stagione un po' impaurito nel proteggere in ferro un po' impaurito negli aiuti che non blocca eccetera eccetera non dico che è dannoso perché in una condizione come sono i Lakers dove o segnale Bruno non segna nessuno uno in più fa comodo e se quell'uno in più è Davis ci mancherebbe però insomma io mi prenderei i miei tempi per fare in modo che rientri in gran forma però è anche vero che i Lakers se perdono altre sei partite che non sono dire è finita quindi otterra giochi ora o ciao anche perché voci recentissime dicono che sul mercato i Lakers non saranno più di tanto attivi quantomeno su grandi carichi magari cercheranno di aggregare giocatori che puntellano un po' il roster mi fa ridere perché il roster che fa acqua da tutte parti quindi non so come si possa anche puntellare però ecco magari l'idea è quella dire siccome non farò grandi operazioni spero che mettendo dentro Davis magari scambiando che ne so Reddish per Nun magari trovo una quadra che ancora non si è trovata sì vabbè insomma sia sempre lì cioè a livello di nomi non sarebbe neanche un brutto roster nel senso però è nato male e finirà male ecco dopo questa è la sentenza i Lakers vincere hanno il titolo dopo questa mia sentenza proprio spada di Damocle altre altre particolarità delle votazioni dell'All Star Game Golden State sta facendo valere il suo la sua dynasty la sua dynasty alla fine perché a livello mondiale credo sia attualmente la squadra più tifata dalle nuove generazioni nuovissime quelle che ancora si fanno imbambolare forse dall'All Star Game perché poi alla fine è quello cioè senti tanti magari ragazzi giovani avere ancora l'hype per l'All Star Game quella che avevamo noi quando eravamo giovani e allora aspettavamo l'All Star Game perché era l'All Star Game adesso noi siamo un po' più vecchi ne abbiamo viste e diciamo siamo esperti diciamo siamo esperti l'esperienza proprio deborda da ogni nostro puoro e pori noi tra l'altro e quindi tendenzialmente noi sappiamo che la squadra più in voga del momento ha gran parte dei giocatori votati Golden State ha praticamente tutto il quintetto tutto il quintetto nella top 10 sia tra le ali che tra le guardie nonostante sia comunque una squadra in difficoltà perché sta lì nel guano per quanto sia deve tirarsi fuori però a quanto pare comunque c'è un problema tra quando si gioca in casa e quando si gioca in trasferta netto nel loro caso vedremo però insomma fa sorridere che Von Lunei un po' come Zazza Paciulia qualche anno fa quando era uno dei migliori cinque centri dei cinque centri più votati al mondo adesso c'è anche Von Lunei ah meraviglia che non ci sia Jordan Poole altro che evidentemente sta veramente sui coglioni a tutti perché c'è Austin Reeves non c'è Jordan Poole però anche lui insomma con l'atteggiamento sa farsi rimanere sulle palle mettiamola in questo modo in più evidentemente nella scazzottata se vogliamo trovare una lettura il pubblico del mondo dà ragione a Dremon Green non a Jordan Poole perché Dremon Green comunque ottavo nel frontcort a ovest Jordan Poole non c'è detto questo i Warriors portano più giocatori di tutti in questo in questo risultato finale e vanno oggettivamente male perché anche lì insomma le soluzioni sembrano essere finite secondo me rispetto a quelle che sono le disponibilità al roster e la possibilità di muoversi in deadline per trovare degli upgrade grossi è comunque limitata dalla luxury e da quanto poi dovrebbero pagare l'anno prossimo si aggreghi nuovi giocatori che poi devi anche firmare perché magari che ne so come i poiltel che potrebbero essere interessanti però poi sono comunque in scadenza quindi o ti porti dentro un poiltel a noleggio per tre mesi oppure devi entrare in ottica di rifirmarlo ma poi diventa un problema sul cap più che altro anzi sulla luxury che evidentemente i Warriors vorrebbero anche iniziare a pagare un po' di meno credo spero mi immaginano oppure magari va bene così e buttare soldi buttare soldi buttare soldi via bello il poiltel in prestito una bella 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 soluzione è uguale leggevo un altro che può interessare Olinik sarebbe la stessa circostanza ad esempio si prende un Olinik a noleggio che te ne fai io non lo prenderei neanche per pulire in terra è un usa e getta è un usa e getta usa e getta vabbè a parte le votazioni vabbè abbiamo passato questo argomento una piccola una piccola occhiata a quella che è la Dan Contest perché tre dei quattro partecipanti che poi boh non so se saranno quattro di più perché poi cambia spesso il formato però al momento ci sono Shedon Sharp molto interessante Kenyon Martin Jr molto interessante e Mike McClung cioè perché perché magari vince poi la gara di schiacciate tutto quello ma Mike McClung ormai ormai in NBA non c'è nessuno che vuole che vuole fare sta pagliacciata per due ragioni due ragioni la prima è che ovviamente questa roba qua la fanno i giocatori che hanno bisogno di visibilità di mettersi in mostra di certo non te la va a fare il Jamorant che sarebbe quello spinto da tutti per farla magari oh il quarto salta fuori Jamorant perché magari la NBA ci sta provando lo tartassa ma dubito verrà fuori un altro giocatore o dalla G League come Mc McClung una bella bugliata però che appeal può avere una gara di schiacciate con questa gente qua cioè ce l'hai perché Shadon Sharp e Kenyon Martin sono due atleti clamorosi e speri che possano mettere su qualcosa di bello però che interesse hai sì però torniamo sempre all'utente coreano che ascolta Suga sa un cazzo chi è Shadon Sharp soprattutto Kenyon Martin Jr cioè oggettivamente comunque non si tratta di giocatori che magari stanno in squadra spinta scusa McClung abbi pazienza cioè si parla da anni la gara delle schiacciate all'hype sottoterra si dice bisognerebbe dar più soldi o trovare motivazioni per invitare le star e quest'anno come soluzione vai a prendere uno che gioca in G League con tutto il rispetto per McClung McClung che abbiamo visto in Summer League eh sì era con i Likers in Summer League e poi è passato a Golden State esatto nella prima a Solex City era con i Likers e poi a Vegas era di là insomma a prescindere da quello cioè ma che cazzo ti va a portare di vedere McClung allora scusatemi il quarto prendiamolo da da un campionato europeo gli si paga il volo facciamolo fare a Tamberi mandiamoci Tamberi tanto scusa Tamberi che stanno se no non ha nessuna occasione per apparire a parte essere nelle pubblicità ovunque chiamiamo Tamberi va a fare la gara di schiacciata anche lui insieme a McClung e si è fatto scopa però scusami c'è una cosa però particolare c'è stato il primo caso incredibile di tentativo di voto di scambio perché non so se hai visto che Aaron Gordon ha detto io faccio la gara di schiacciata e se mi convocate allo Stargate c'è una roba incredibile ma dove siamo nella Sicilia mafiosa una roba assurda io ho letto questa roba qua ha detto se fossi convocato alla partita delle stelle allora farei la gara delle schiacciate e in questa maniera qua allora la grande domanda si deve andare a prendere i giocatori cioè i voti per completare i roster uno dice se voglio dare un po' di prestigio a questa boiata di gara delle schiacciate dove dominerebbe altrimenti McClung non sa manco chi cazzo è allora per il coreano che ascolta Suga forse è meglio avere Aaron Gordon quindi in questa maniera gli si fa fare la gara la partita delle stelle che non conta un cazzo siamo tutti d'accordo però per i giocatori conta perché comunque aumentano a livello di upgrade le possibilità di aumentare i soldi contrattuali quindi Aaron Gordon furbetto mica scemo mica scemo a parte che sta giocando anche un'ottima stagione Aaron Gordon detto interno cioè in questa stagione Aaron Gordon e Andrew Wiggins messi uno di fianco all'altro cioè meglio Aaron Gordon e Andrew Wiggins in questo momento è quinto tra i più votati nel frontcourt dell'Ovest il problema è la pilla della squadra e tutta una serie di altri parametri ma se te dovresti poi trovarti al roster dell'All-Star Game premettendo ripetendo non conta un cazzo Aaron Gordon piuttosto che Mark Hannen grideresti un po' allo scandalo diresti beh insomma che cazzo di puttata Mark Hannen tra i due ad esempio se lo merita di più però se vuoi avere cioè pagare uno e prendere due insomma conveniente per averlo alla gara delle schiacciate lo porti anche come riserva all'All-Star Game e hai vinto insomma hai vinto relativamente scusa e l'altra ragione mi fa ti do anche un altro spunto c'è Paul George sesto e Kawhi non c'è proprio questo mi pare giusto hanno giocato le stesse partite è abbastanza incredibile sta roba ma scusa ma l'assenza di Kawhi Leonard l'avevo completamente non l'avevo calcolata Paul George a un milione e sei e Kawhi scomparso scomparso tra l'altro Kawhi sta ritornando perché sta mettendo sta rimettendo fiducia sta rimettendo ritmo e poi ragazzi è uno di quelli che ti fa la differenza veramente quando conta il regular season non gliene chiava niente è veramente scomparso dai radar della considerazione Kawhi Leonard e questa ne è una dimostrazione e tra l'altro anche il fatto che io non avessi neanche cercato ne è ulteriore dimostrazione cioè completamente dimenticato in questa squadra brutta da vedersi abbiamo già detto come i Clippers però dove sta tornando in grande spolvero quindi ora noi stiamo registrando domenica pomeriggio stasera in orario europeo ci sarà la partita con i Dallas Mavericks di solito Donchic contro i Clippers da tutto quindi chi ci sta ascoltando saprà com'è andata e saprà soprattutto se Kawhi ha giocato perché quello è sempre una roba che si capisce all'ultimo momento quindi potrebbe anche essere questo uno dei problemi per cui magari ha rotto le palle anche lui cioè questo lo abbiamo detto già altre volte sta un po' rompendo i coglioni questa roba non si sa mai se gioca e non gioca e magari il coreano medio che ascolta ha deciso di non votare che ascolta Esuka va bene mi dissocio mi dissocio va bene dai esauriamo al discorso All Star Game io dalla gara di schiacciate mi aspetto comunque che Shadow Sharp qualcosa di paranormale potrebbe anche farcelo vedere nel senso per come salta come va su se ha un minimo di fantasia può venire fuori magari un paio di schiacciate degne di nota però ormai non mi aspetto più niente nel senso che ormai sai che 2016 è stata la gara di schiacciate uno contro uno migliore probabilmente di sempre sai che ci sono alcuni mostri sacri come Carter come Jordan che sono totalmente inavvicinabili e sai che l'asticella ormai è un punto per cui se fai una bellissima schiacciata ma già vista sì bello però ecco insomma sta un po' sta molto perdendo a pille in realtà e vabbè è giusto è anche giusto che sia così l'unico modo sarebbe scusami se ti interrompo fare una gara delle schiacciate in piccolo durante l'alftime della partita delle stelle facendo partecipare quattro giocatori che sono alla partita delle stelle ora a prescindere da Aaron Gordon se ti trovassi a vedere un giro solo due schiacciate a testa e si vota tra Morent Zion Williamson Lebron visto che tutti lo vogliono da una vita sicuramente anche se facessero schiacciate già viste però il fatto che le fanno loro renderebbe la cosa un attimino più di interesse però chiaramente la gara delle schiacciate è il traino per lo star Saturday e quindi lo devono mantenere lì e nessuno delle star vuole rompersi le balle il sabato da mettersi calzoncini e maglietta se lo deve fare anche la domenica e quindi nessuno di queste partecipa detto questo io chiudo solo dicendo mi auguro di vedere Simone Fontecchio alla gara di tre punti che se ne è parlato e speriamo per avere un minimo di interesse su questo sabato delle stelle tra l'altro è aiuta cioè se no aiuta che tiratori ha da poter far giocare manderà a Conley Conley l'inculata l'inculata per Fontecchio è che l'all star game arriva dopo la deadline perché se fosse stato prima allora sarebbe stata l'unica occasione visto che non gioca mai di metterlo in mostra per poterlo vendere in questa maniera qua o inserirlo in un pacchetto in questa maniera qua non avranno interesse neanche più di mandarlo a fare la gara di tre punti perché insomma resterà lì e resterà in fondo alla panchina o forse no chissà vedremo quello che succederà aiuta e parlando di iuta andrei al secondo argomento cioè facciamo un attimo il punto dei rookies di questa di questa stagione parlo di iuta perché ovviamente iuta ha dato via insomma Mitchell e Gobert lo sappiamo al posto di Gobert ha preso un pacchettino tante scelte e la scelta che doveva essere di Minnesota che è finita per essere questo Walker Kessler questo sette piedi bianco perfetto per l'ambiente di iuta di Salt Lake City in mezzo ai mormoni che sta venendo fuori abbastanza bene soprattutto come rim protector ma non solo rimbalzista e nell'ultima settimana anche una gara da 20 e 20 per cui hanno perso perso hanno venduto a peso d'oro Rudy Gobert agli unici che potevano spendere tutta quella roba lì per prenderselo perché solo Minnesota poteva pensare di fare un'operazione simile ma hanno già il loro nuovo Gobert che ha più di 10 anni in meno magari è anche più simpatico caratterialmente e sta lì e sta lì due paroline su Volker Kessler che tra l'altro anche per la NBA è entrato nella top 5 della rookie della rookie ladder il che e apro un altro argomento ci fa anche tra virgolette capire che questa classe rookies per il momento sta deludendo abbastanza dal mio punto di vista ma è una classe strana secondo me chiaramente paga l'assenza di Holgrim che aveva un hype particolare che magari avrebbe potuto far vedere grandi cose in realtà secondo me in questa classe ci sono un sacco di buoni comprimari anche del domani che magari sapranno anche essere decisivi per peculiarità particolari nello sviluppo delle relative squadre mi viene in mente ad esempio AJ Griffin mi viene in mente Dyson Daniels però effettivamente non è che ci siano delle superstar già non voglio dire fatte e finite ma quasi eccetto Paolo Banchero che infatti è abbastanza in fuga nei leader e nelle prospettive di vincere il rookie of the year per quel che riguarda Kessler oltre a essere migliore di Gobert per Utah in quanto bianco perché no è vero comunque Utah di giocatori bianchi ce l'hanno sempre avuta e pensate a Mark Hannen e a Kessler come coppia del frontcorto di domani direi che i mormoni sono eccitati più di quanto non lo siano di natura visto insomma le limitazioni anche medie da un punto di vista sessuale dovrebbero avere lì però comunque Volker Kessler non è una scoperta nel senso che gli istinti difensivi senza senso e la capacità di protezione del ferro è vero magari la valuti differentemente però lo scorso anno Hoborn io guardavo le statistiche viaggiava 4,6 stoppate e non è tanto neanche la faccenda delle stoppate è soprattutto la faccenda del modo in cui limita la visuale del ferro al diretto avversario e quindi i tiri non voglio dire che sporca ma soprattutto che contesta esatto non mi veniva ed è quello il gran valore di questo e ancora una volta tocca veramente salire sul carro di Minnesota e prenderli a bastonate invece che salirci per restarci perché ce lo avevi non lo pagavi un cazzo diciamocela tutta sei andato ad impegnarlo a regalarlo aiuta per portarti a casa gober sacrificando il tuo futuro e facendo quella che Barclay ha definito la peggior trade di sempre se non è qualcosa di simile stavolta non ha torto perché a maggior ragione ogni giorno in più che passa in cui Kessler si fa vedere i 20 e 20 in materia di punti e rimbalzi sono stati la consacrazione dove se ne è accorto anche il coreano medio che ascolta Suga lì si è accorto anche lui di Walker Kessler e ogni giorno più che passa è una botta in più che bisognerebbe dare sul gruppone alla rappresentazione umana dei Minnesota Timberwolves perché l'avevano lì e sarebbe stato perfetto anche per poter capire effettivamente se davvero ha senso abbinar Towns ad un centro di area perché ancora non si è capito se questa roba ha senso perché Traktowns e Goberth non si è avuto neanche il tempo per verificare se poi il fit esiste potevi provarlo con un rookie che ha delle peculiarità difensive molto simili a Goberth le peculiarità offensive di Goberth tanto ragazzi insomma sono divertissime per cui non è che ci guadagni capito qualcosa e invece no e invece l'hanno regalato a Utah a Utah in questo modo dicevo ha il frontcourt del futuro con Mark Hannon e Kessler bianchi giovani forti sovradimensionati ed è una roba per cui Utah può anche chiudere baracca a questo punto qua la stagione loro l'hanno già vinta hanno questi due garantiti adesso si può svendere come faranno e vedere quel che succede magari anche giocare a perdere o qualcosa di simile però ecco Kessler proprio per questo discorso che facevo prima e poi magari mi dirai te trattandosi di un rookie principalmente a trazione difensiva come ce ne è tanti in questa rookie class emerge ulteriormente perché una rookie class mi permetto di dire più di potenziali specialisti che di superstar e fa un po' senso perché solitamente si valuta i rookie per l'impatto offensivo però qui ce ne è tanti che a livello di impatto difensivo stanno dicendo la loro sì, sono d'accordo e ti aggiungo anche un altro tema cioè il fatto che il draft dell'anno prossimo sia quello che dovrebbe sulla carta essere in qualche modo ha tolto ulteriore attenzione dalla classe rookie di quest'anno cioè fin dal draft fin dalle summer league la NBA ci ha fatto capire trasmettendo Van Banyama contro Scoot Anderson trasmettendo Van Banyama in Europa seguendo Van Banyama ovunque andasse che è tutto sommato il vero focus dell'NBA sul prossimo draft non su quello che è appena avvenuto e questo secondo me sta facendo pesare ulteriormente ai rookie di quest'anno meno attenzione cioè c'è meno attenzione su di loro che non è potrebbe anche essere un aspetto positivo per alcuni avere meno pressione meno gli occhi puntati però è anche vero che non emerge nessun fuoriclasse l'unico che sembra poterlo essere è ovviamente Paolo Banchero il secondo potrebbe essere Benedict Maturin che comunque è calato abbastanza recentemente Kigan Murray aveva giocato delle stratosferiche summer league MVP anche e a Sacramento è un giocatore di rotazione è un giocatore che gioca ma sicuramente non è il giocatore di punta in una squadra che comunque funziona quindi quello che dicevamo prima cioè giocatori che inseriti in sistema possono avere il loro ruolo in NBA da qui fino a fine carriera hai parlato di AJ Griffin che si è ricavato il suo il suo spazio ad Atlanta vogliamo parlare di Jalen Duren che sta giocando ed è il giocatore più giovane attualmente in NBA se è ricavato lo spazio ha potenziali enorme da rimbalzista offensivamente è tutto da definire perché anche lui è molto atletico ma null'altro dopodiché Jalen Williams a Oklahoma City Andrew Nenbard a Indiana tirato fuori dal nulla ecco chi forse sta deludendo un pochettino è già Den Ivy da cui forse ci si aspettava anche visto l'infortunio di Kate Cunningham che potesse esplodere a livello statistico in realtà è rimasto lì fermo e anzi Killian Hayes più che altro è venuto fuori e già Barry Smith che però mi sento di assolvere perché è in un sistema che non che non esiste cioè è in un non sistema e spero vivamente che Udeman Yama non finisca lì perché non è giusto che l'obrobrio che stiamo vedendo quest'anno certificato dalle parole di Eric Gordon che dice qua non si è migliorati un cazzo da quando sono arrivati questi due nel backcourt perché poi alla fine era riferito lì e dalle parole anche ulteriori di John Wall che dai Clippers dice no io ero sano volevo giocare ma questi non mi facevano giocare perché volevano perdere cioè come si faccia mai a costruire una squadra una mentalità vincente chiedendo ai giocatori di perdere cioè non si meritano la prima scelta ecco io spero nella quinta esatto ma anche perché le parole di Eric Gordon vanno sul presente allora possiamo puntare il dito contro il povero Stephen Silas che chiaramente non ha il polso della situazione o contro il backcord dei criminali principalmente Kevin Porter Jr ma le parole invece di The Wall sono ancora più gravi perché vanno proprio a puntare il dito su un'organizzazione ancora sopra a questi qua perché si parla di anni fa e comunque si parla di anni fa si parla di due anni continuativi dove insomma la mentalità era quella di fare schifo in buona sostanza e neanche di lavorare sul core che hai lì ed è il problema che si vede ora di Houston e sul quale sbatte il muso Jabari Smith che lasciamo perdere che comunque purtroppo gli sta tirando male ma credo che anzi credo non lo so però probabilmente una delle faccende per cui le sue percentuali sono pessime anche che malgrado le peculiarità si deve inventare dei tiri in condizioni che non sono esattamente comodi difensivamente sta facendo vedere di avere dei valori di poter cambiare su tutti di essere versatile però comunque in una squadra dove la difesa di sistema non funziona non esiste esatto non c'è comunicazione non c'è coesione cioè Jabari Smith il ceiling di Jabari Smith resta alto sicuramente se fosse stato prima scelta non lo so magari Orlando se avrebbe funzionato meglio o meno però appare come una grande delusione però ecco lì hai detto bene te il contesto può contare purtroppo per lui rispetto a Ivy invece anch'io me la sento non di promuoverlo per il momento perché è inefficiente Ivy e questo probabilmente è il punto da un punto di vista offensivo anche se chiaramente poi sono rookie e quindi tipo hanno come dire ma poi hanno periodi dove vanno meglio periodi dove vanno peggio la verità è che forse Ivy se avessi avuto modo di perfezionare il fit con Cunningham essendo che sono due giocatori che in teoria per peculiarità dovrebbero completarsi sarebbe apparso migliore anche da un punto di vista di efficienza rispetto a vederlo solo sull'isola tra virgolette del backcourt e darci come dire conferma di quel che sapevamo cioè primo passo fulmineo super atleta cambia il ritmo però insomma senza vedere l'altro l'altro perfetto coincidente accanto a lui insomma tutto questo denota anche poi dei difettucci insomma percentuali di tiro ondiva che selezioni non sempre ottime e quindi efficienza discutibile da un punto di vista offensivo quindi per chi come me pensava che Ivy fosse il rookie of the year ha preso una trambata cioè l'ha presa insomma in sede in sede di prestagione e invece ci sono questi rookies non scontati come hai detto bene te Nenbard Nenbard è uno che malgrado sia il secondo creatore o il secondo portatore di palla perché il primario a Indiana è Tharisa Libarton vedi che viaggia una media assist e credo la seconda o forse la prima più alta della rookie class mi pare 6 di media che è tanto se ci pensi e poi nella metà campo difensiva anche lui insomma recupera i palloni e si dimostra interessante e presente stesso discorso per i rookie anche lui per me completamente una sorpresa Jalen Williams di Oklahoma City che comunque resta e lui oltre ai numeri è interessante perché resta comunque un prototipo atletico in linea con quelli che i Thunder stanno mettendo insieme cioè è una guardia in buona sostanza ma ha un'apertura alare da 3 e comunque te lo può impiegare in più ruoli diversi a livello di interscambiabilità ad esempio con Giddi o comunque per rinfoltire il backcourt un backcourt che sembra delineato perché hai Shea e Giddi però indirettamente c'è lui lui lo può utilizzare anche come 3 insomma è un altro dei tanti jolly che sono Oklahoma City e che secondo me sta facendo una stagione impressionante viaggia a 12 di media cioè in teoria è il terzo miglior rookie se guardiamo i leader medi di questa classe direttamente dietro a Benedict Maturin quindi cioè è impressionante ed è una grande presa di San Presti lui sì cioè se riuscisse a prendere Umbanyama avrebbe completato il cerchio e avrebbe si può iniziare a vincere un lavoro solo che sta vincendo già troppo e quindi il rischio è che poi in lottery non gli tocchi ma sai che a un certo punto spara qualcuno lui sai che a zoppa qualcuno e chissà che non sia proprio John Williams che venga esatto dal nulla sei giovane dal nulla e poi altri nomi di questa rookie class io non ho ancora capito Jeremy Sokan a San Antonio che cosa faccia in campo cioè nel senso non sa tirare con una mano cioè lui lui è entrato in NBA per essere un personaggio cioè per basta cioè non sa fare nulla ma guarda io ti dico neanche poi ti rimetto uno che va a San Antonio si prende la maglia 10 di Rodman si colore i capelli come Rodman con Popovic in panchina è allenato da Popovic capito cioè siamo e questo è un altro mi dispiace dirlo vuole farsi cacciare oppure vuole dimostrare quello che non voglio mancare di rispetto ma iniziamo a dedurre cioè che Popovic è completamente bollito perché il Popovic che vedeva Rodman ed era tipo un toro ai tempi era general manager col rosso cioè andava caricando incazzandosi non so come ora da vecchio abbia trovato probabilmente la pace dei sensi per sopportare questo qui che si presenta a fare il sosia del Rodman che fu tira ai liberi con una mano cioè ed è comunque intraducibile perché si trova in una squadra intraducibile pessima dove a sensazione i migliori giocatori sono dei comprimari medi nelle altre squadre e il rischio di Sokan è quello cioè che sia poi alla fine della fiera semplicemente un giocatore di rotazione discreto ma che non vale a quel punto lì o che non valga la picca dal lottery con cui è stato chiamato però è tutto da capire non ci si capisce un cazzo non si riesce a capire cosa si è in grado di fare quello è il grosso problema ultimi nomi riguardanti riguardanti i rookies secondo me se ne parla pochino se ne parla molto poco in realtà anzi se ne parla quasi per niente ma David Roddy cioè il che babbaro il simil van vliet però più grosso che gioca in rotazione ai Memphis Grizzlies secondo me può diventare può essere un altro giocatore di rotazione importante da qui al futuro nel senso che è un giocatore che è forte fisicamente massiccio tira da tre e ha quella quella garra da Memphis Grizzlies che probabilmente serviva e l'altro lo chiedo invece a te visto che hai iniziato a giocare e anche a mettere anche cifre importanti ultimamente Max Christie il tuo rookie a Los Angeles una sorpresa cioè nel senso è venuto fuori hanno iniziato a farlo giocare e lui comunque è pronto da quello che ho visto ed è già tanta roba perché comunque i Lakers hanno comprato la pick nello scorso draft per potersi prendere un 3 and D in potenza il 3 and D in potenza che è toccato alla 35 era Max Christie se non erro io avevo detto subito che poteva essere una presa nel medio e lungo termine interessante fortuna per lui e sfortuna per i Lakers che via ha infortuni e pessime organizzazioni di roster gli permettono di vedere il campo e malgrado faccia i suoi errori ci mancherebbe altro sta crescendo ripartita in partita oltretutto è anche un indignitoso tiratore del resto si presentava con quella con quella qualità lì e quindi insomma è l'ennesima buona presa comunque se ci pensi dello scouting Lakers nelle zone basse dei draft perché comunque pensa Austin Reeves era un draft ma lo stesso Caruso lo stesso Guzma cioè nel senso le prese le fanno buone poi non li sanno trattenere oppure non sanno capire quelli che ha senso trattenere e magari trattengono altri vedi lo scorso anno negli ultimi anni con un tale Norton Tucker che poi è stato giustamente regalato per due noccioline cioè Patrick Beverly più che altro lasciamo perdere però insomma per trattenerlo prima hai permesso di perdere Caruso e non hai fatto saltare una presunta trade per Lauri però a prescindere da quello a livello di scouting i Lakers ci chiappano su Roddy invece è interessante perché secondo me Roddy e Laravia che è l'altro rookie che magari è un po' di meno in vista potrebbero funzionare da sorpresona l'anno prossimo un po' come è apparso quest'anno al Dama cioè nel senso i Grizzlies si aggregano questi giocatori magari li tengono rotazione un po' dentro un po' fuori insomma li cuscirano bene bene poi a un certo punto se c'è bisogno appaiono pronti per funzionare perché si sono ben inseriti in questo gruppo che continua secondo me ad essere solido e a muoversi coeso quindi sono buone prese secondo me soprattutto Roddy perché Laravia è stato più alto Roddy non ricordo male insomma l'hanno preso piuttosto giù no? sì credo Laravia sia stato anche tra l'altro frutto di una trade di scelte adesso non ricordo però non è stato selezionato direttamente da Memphis ma è stato è arrivato via trade proprio dopo il giorno stesso del draft insomma però insomma quello che hanno fatto appunto con Aldama e con John Concher che adesso hanno hanno soprattutto tra l'altro vabbè Aldama è partito in quintetto quando mancava Jordan Jackson Jr senza tra l'altro sfigurare anzi adesso ha un ruolo nelle rotazioni Concher a me veramente piace parecchio cioè è un giocatore che sa fare che sa fare tutto in campo va forte a rimbalzo piazza tanti assist nel periodo in cui magari mancava già Morant è andato anche spesso a flirtare con la tripla doppia cioè è un giocatore che sembra che abbiano preparato nei suoi primi due anni per questo momento cioè alla fine hanno perso ricordiamocelo Kyle Anderson e Anthony Melton e avevamo detto per forza di cose il livello cala perché se togli due giocatori di rotazione come loro e inserisci comunque due rookies o non prendi comunque nessuno perché non hanno preso nessuno non mi aspetto che Memphis faccia meglio dell'anno scorso e invece evidentemente hanno lungimiranza e capacità nel come dicevi tu integrare tutti all'interno di un sistema che è chiaramente quando c'è Morant Morant centrico ma che quando non c'è Morant funziona benissimo ugualmente e questa secondo me è la grande differenza tra i Memphis Grizzlies e tutte le altre squadre NBA perché se tu togli un giocatore dell'importanza di Morant alle altre squadre non parliamo di Jokic a Denver che se lo togli cade tutto ma qualsiasi superstar tu tolga alle squadre NBA le squadre NBA calano Memphis è l'unica squadra che manca Morant e vince manca Bain e vince manca Jaren Jackson e vince mancano tutti e vince quindi c'è un bel lavoro alle spalle ed è il motivo per cui ti dico che Memphis nei prossimi 6, 7, 8 anni se non implode il gruppo è una seria candidata a dominare la Western Conference per età anagrafica e ovviamente infortuni permettendo però per età anagrafica e mentalità che sembrano avere l'impressione che mi dà è proprio quella no no il lavoro è stato fatto giustissimo secondo me e va avanti increscendo e non mi meraviglierei di vederli alle finali di Conference in questa stagione qua e poi sai che quando sei lì una botta di culo o un infortunio per gli altri insomma puoi arrivare alle Finals alla fine è questione di vincere quattro partite non è semplice però se arrivi fino alle Conference Finals insomma non mi stupirei di vedere i Grizzlies già quest'anno farle exploit a questo punto qua perché per ora sono belli solidi poi se dobbiamo pensare anche di aver pagato più o meno già pegno alla sfiga lo hanno già pagato perché appunto hanno giocato più di mezza stagione senza Jaren Jackson Jr o Desmond Bain in buona sostanza quindi dovrebbero anche aver già dato poi magari magari gli porto merda non lo so però insomma si concordi con te tra l'altro ti domando perché te sicuro ne sai più di me ma Kenny Lofton Jr che era diventato un caso per via delle sue enormi chiappe durante la Summer League ma è ancora roster è un 2A non so che tipo di contratto abbia credo abbia un 2A cioè faccia la spola un pochettino tra G League e Memphis Grizzlies però non sono così certo però per esserci c'è te lo dico con certezza perché ultimamente in qualche partita di Memphis Grizzlies l'ho visto non in campo ma l'ho visto in panchina e niente cioè quindi sai com'è prima o poi prima o poi arriverà il suo momento e si farà trovare pronto probabilmente cioè se fa un po' come gli altri nel senso magari l'anno prossimo c'è l'infortunio di uno si parte con Kenny Lofton con quel con quel sedere pachidermico e magari ti fa la differenza pure lui è geniale the next Kyle Lowry va bene dai rookie rookie trattati ultimo argomento quindi terzo ultimo argomento siamo a 50 minuti quindi insomma parleremo 5-10 minuti al massimo perché insomma qualche rumor inizia a venire fuori principalmente da tre piazze in realtà che sono tre squadre che sono ampiamente sotto il par per quanto riguarda il rendimento quest'anno noi sono Toronto Raptors che per cui si vocifera che addirittura siano potenzialmente tutti in vendita tranne Scottie Barnes Washington Wizards anche loro molto sotto il par rispetto a quello che è il potenziale valore e anche loro hanno tanti asset perché a parte Kuzma c'è Rui Acimura che recentemente ha rilasciato dichiarazioni per cui vorrebbe andare a giocare altrove in sostanza lui basterebbe giocare quantomeno perché evidentemente a Washington non trova spazio o non lo spazio che lui desidera ricevere e la terza sono i Chicago Bulls che hanno dichiarato filtra che l'unico incedibile sia Alex Caruso quindi quindi sono tre piazze queste tre che in cui se una contender o una squadra di alto livello NBA medio alto va a pescare può veramente trovare il pezzo mancante perché Anunobi statisticamente è il miglior difensore in ISO dell'intera Lega cioè chi gioca contro Anunobi in isolamento tira col 20% al campo è qualcosa di clamoroso Dallas Mavs per esempio è però costa costa Anunobi te lo fanno pagare però potenzialmente hai un buon attaccante e un ottimo difensore nella squadra di Luca Doncic cioè è sulla carta un prototipo buono da mettere in quella squadra se poi lo riesce a trattenere Finney Smith nell'ambito della trade e magari riesce a dargli lì che ne so i Bertans Giade Nardi tra l'altro altro rookie che in teoria che ne so Reggie Bullock Tim Hardaway Junior cioè ti liberi di un po' di gente così Pix ovviamente tante scelte perché è giusto così però ti porti in casa un difensore d'elite e un buon attaccante come Anunobi con Doncic sai che per me non dispiacerebbe e poi se oltre a Anunobi arrivasse anche la VIN il problema è che non hai sufficienti asset per fare questi due colpi Purtroppo ne ha talmente pochi dei asset in generale che secondo me non è in grado di prendere nessuno dei due perché per Anunobi comunque si parlava di un prezzo che sia equiparabile a quello che ha pagato Atalanta per De Jong Temore e le picche di Dallas ragazzi non sono picche così appetibili in realtà se pensi che comunque con Doncic dai per scontato che stagioni fracassone da dire che arrivo in fondo ne farai poche messo che tenga quindi boh è un bello azzardo più che altro magari le picche comunque ce le ha però poi i giocatori effettivamente di valore da dargli subito davvero se ti metti a fare un paragone tra Tmi Ardo e Junior che ne so e Bertanz chiunque altro che può offrire altrettante picche ti offre qualcosa di meglio mediamente e quindi il grande dubbio che ho io su Dallas capito gli asset sono due secondo me che ha Dallas sono Finney Smith e Christian Wood tra l'altro Christian Wood in scadenza mi pare quindi è tutto da vedere però sarebbero due da tenersi se vuoi puntare in teoria in teoria capito comunque quello è il problema di Dallas esatto o se no provi il colpaccio Siakam a quel punto io Finney Smith per Siakam forse ce lo sacrifico ecco Finney Smith Team Mardoway e anche 4 pick per Siakam io lo farei nella logica attuale perché Siakam intanto ha già vinto un titolo in quel ruolo da secondo barra terzo violino ed è un giocatore che ti dà tanto che è cresciuto tanto ed è uno star cioè quest'anno se non va allo star game sono una stagione assurda ma il problema anche lì è che secondo me Siakam va da qualche parte va da qualche altra parte perché a livello di valore insomma Toronto dovrebbe pretendere di più di quello che è ciò che Dallas può dare cioè Dallas secondo me può solamente inserirsi se una superstar o comunque un profilo che a loro serve forza la trade violentemente quindi il caso la VIN o il caso Bill ad esempio potrebbe essere consenso del tipo nessuno offre o perlomeno nessuno è in grado di poter assorbire il contratto cose simili o in pochi e nessuno vuole rischiare la VIN però ipotesi si impunta vuole essere ceduto entro la finestra di mercato o magari dice voglio proprio andare a Dallas cioè Dallas può sfruttare solamente quello perché alla fine della fiera se questi giocatori vengono messi sul mercato secondo me gli asset che a disposizione Dallas sono inferiori a qualsiasi altro asset di chi può essere seriamente interessato a prenderli però o meglio cioè se fossi Raptors io metto sia cam sul mercato ma vado a bussare Golden State Warriors per dirti non vado certo a calcolare quello che mi può dare Dallas perché comunque a livello di tangibilità c'ho poco i Warriors mi possono dare giovani futuribili che lì non funzionano e poi magari anche lì non so scelte o magari una star o comunque un giocatore con un contratto bello corposo quindi per i Mavs la vedo buia da questo punto di vista però una cosa è certa le tre squadre che hai citato De se mettono sul mercato o comunque ascoltano proposte un po' per tutti sono tre squadre dalle quali uscite può cambiare l'equilibrio della stagione perché alla fine della fiera Washington ha comunque ad esempio un Bill che potrebbe anche lui decidere finalmente di togliersi del coglione dico finalmente perché farebbe un piacere a Washington perché finché lui è lì non si muove nulla Toronto verosimilmente Gary Tran Jr è il primo che deve andarsene perché è in scadenza e non hanno intenzione di trattenerlo da quel che ho capito e poi probabilmente Van Blit è un altro sul quale stanno ascoltando tanto è che Van Blit in scadenza io oggi Anunobi non ci penserei a darlo onestamente però se si discute che Toronto lo sta valutando vuol dire che evidentemente hai idea di rehabilitare in un'ottica massiccia però non è talmente versatile è talmente utile ovunque che io insomma io non lo darei via però e con questo siamo arrivati a quasi un'oretta quindi vedi iniziamo dicendo ma anche di che cosa parliamo che argomenti deviamo fare e poi si parla anoretta come al solito Tore ci sarebbero altri rumor ma magari non bruciamoceli tutti in questa puntata teniamoci qualche argomento anche per la prossima anche perché la prossima sarà quella prima della deadline se non erro non ho il calendario sotto mano mi fido mi fido non so se ce ne sia un'altra forse o no la prossima settimana direi no sì forse ce n'è un'altra quindi insomma sicuramente di settimana in settimana in questo periodo saliranno ulteriori rumors ulteriori news più chiarezza su alcune posizioni ad esempio J Crowder non abbiamo parlato ma del resto secondo me alla fine per quello che è l'andazzo andrà in buy out perché tutti sanno che in ogni caso non rimarrà Phoenix e quindi nessuno va a offrire chissà che per J Crowder e soprattutto che non giocherà in questa stagione a Phoenix anche se dovesse rimanere non scende in campo quindi Phoenix non ha proprio potere di alcun tipo sulla trade eventuale o su quello che vuole in cambio da J Crowder in questo momento ci sono alcune posizioni come quelle di Cam Reddish che è in uscita a New York tanti altri giocatori che insomma dovrebbero potenzialmente muoversi e di settimana in settimana si saprà sicuramente qualcosa in più Tore abbiamo finito un'oretta come al solito questa puntata uscirà lunedì 23 gennaio alle 7 del mattino come sempre per far compagnia ai pendolari agli studenti e poi comunque se volete ascoltarla anche il resto della giornata nulla ve lo vieta esatto e basta direi Tore altro da aggiungere? niente Franz sempre un piacere sempre un piacere anche sapere che qualcuno ci ascolta non sappiamo quanti non sappiamo chi sono però non posso far altro che augurargli uno splendido felice indimenticabile ennesimo lunedì di merda abbracciandoli forte e ci sentiamo la prossima volta se sopravviviamo all'ennesima settimana di merda perché c'è sempre questo dubbio sì vuoi sorridere ancora un po' e dopo chiudiamo mentre stavo andando non so se ti sei reso conto mi sono tolto ogni tanto una cuffia perché sentivo rumori da di là adesso io sono sicuro chiuderò questa puntata del podcast andrò di là e avrò mia figlia media che ha vomitato ok quindi ragazzi non cambia un cacchio cioè siamo sempre quelli sempre quelli sfigati per il momento almeno io personalmente forse anche te stiamo bene però è tutto ciò che ci ruota attorno che non funziona ragazzi intorno a noi in tessi come singolo pianeta ruotano universi di merda incredibili siamo attraiamo sfighe siamo i gobert siamo due gobert scopriremo se è colpa del podcast solo quando metteremo in pausa il podcast quest'estate perché se poi al momento che smettiamo col podcast tutto torna normale allora l'anno prossimo non rifaremo perché evidentemente la merda la porta a questo però per adesso non abbiamo una riprova quindi ci risentiamo la prossima settimana esatto esatto ragazzi buona giornata a tutti ciao 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 ciao